Valentina, sciopero globale di Fridays for Future, indetto da Fridays for Future, oggi è venerdì, sciopero globale, cosa significa? Significa che scendiamo in piazza in migliaia di città in tutto il mondo, da Berlino a Vienna, New York, New Delhi, ovunque, per chiedere giustizia climatica e soprattutto per chiedere un'azione concreta in vista della COP26 e della Pre-COP, la Pre-COP si svolgerà a Milano questo weekend e invece la COP26 si svolgerà a novembre a Glasgow, quindi chiediamo tutti un'azione concreta per la giustizia climatica e per la riduzione delle emissioni di CO2 entro il 2030 e l'azzeramento entro il 2035. Allora, ci sono molte dichiarazioni nucleari di quarta generazione, ambientalisti radical chic, il ministro Cingolani ha fatto alcune dichiarazioni, cosa rispondete al ministro Cingolani? Sì, rispondiamo che se servono degli ambientalisti radical chic per cambiare il mondo, allora lo siamo. Grazie. Grazie a lei.